La prima fusione fra comuni nella provincia di Milano è un evidente risparmio nei costi vivi per le casse del neonato comune. È il caso di Vermezzo con Zelo nato nel 2019 dalla fusione delle due precedenti comunità dell'Abbiatense e che sta già dando buoni frutti. Due anni fa il nostro comune ha fatto una scelta coraggiosa e lungimirante. Coraggiosa perché siamo stati il primo comune in tutta la provincia di Milano ad essere andati in fusione e lungimirante perché ci ha permesso di ottenere notevoli benefici. Oggi possiamo disporre di uffici comunali di numero adeguatamente strutturato così da poter dare risposte più veloci ai nostri cittadini e anche dal punto di vista economico abbiamo avuto notevoli vantaggi. Abbiamo appena certificato con il costruttivo 2020 una mazza di amministrazione pari a 803 mila euro con i 313 degli anni scorsi. Abbiamo avuto più di un milione di euro di contributi dallo Stato e abbiamo generato risorse, abbiamo generato risparmi di spesa. Infine abbiamo generato economie derivanti dalla sinergia di aver unito i due comuni pari a circa 130 mila euro sulla spesa generale di gestione. Praticamente l'avere unito i due comuni in un'unica sede ha generato risparmi di spesa pari a circa 130 mila euro sulla spesa di gestione corrente dell'ente. Quindi alla luce di questi dati mi sento di dire che abbiamo fatto tutti noi una scelta vincente. Grazie. Grazie. Grazie.